Stare a casa è bello. Sì, è bello. Può essere sempre bello. È bello perché ci fa sentire protetti e ci fa dedicare più tempo a noi stessi e a ciò che amiamo. È bello perché ci ricorda di tenerci in forma e di sperimentare la creatività senza smettere di socializzare, anche da lontano. È bello perché ci dà più tempo per la lettura e per riordinare le idee, ma anche per le maratone tv e per allenare la mente. Ed è bello scoprire che il lavoro agile è davvero agile quando ci fa pranzare in famiglia con tutta la calma del mondo. Stare a casa è bello perché siamo così abituati a correre che ora abbiamo l'occasione di riscoprire la bellezza di fermarci. Anche ora la casa protegge tutto il nostro mondo. Remax Bolina, al tuo fianco per vendere e comprare casa.